La lezione di Bob Proctor sui paradigmi Come cambiare la propria vita Bob Proctor ha insegnato al mondo cosa sono i paradigmi ed ha creato un'immagine della mente Molte persone hanno raggiunto il successo grazie a lui I paradigmi sono delle idee, delle convinzioni impiantate nel tuo subconscio, che determinano i risultati che ottieni nella vita Bob ci ha insegnato che la ripetizione è costante protratta nel tempo delle affermazioni su quello che Vogliamo Riprogramma il nostro subconscio Scrivere su un foglio di carta i nostri obiettivi, o quello che desideriamo rendere automatico E leggere ogni giorno ripetendo la frase Riprogramma il nostro subconscio Anche il farmacista Emil Cue che ha dichiarato che la ripetizione e l'autosuggestione ha un effetto positivo sulle nostre abitudini e riprogramma la mente La stessa cosa ha sostenuto l'autore del libro Psicocibernetica Controllare i nostri pensieri e ripetere ogni giorno messaggi positivi aiuta a migliorare la vita Bob ci ha insegnato che le immagini che abbiamo nella mente creano degli standard E questi standard si manifestano nel mondo esteriore Quindi se vuoi cambiare qualcosa nella tua vita, scrivilo su un foglio ed ogni giorno leggilo Poi visualizzati come se fossi la persona che ha già raggiunto quell'obiettivo Fallo con tenacia e presto il tuo obiettivo si manifesterà Grazie mille! Grazie a tutti